Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Gilberto Gentili è il nuovo direttore dell'azienda sanitaria territoriale di Fermo, nominato con i colleghi delle altre province marchigiane ieri dalla giunta regionale. Gentili è un nome noto della sanità, originario di Fossombrone, ha ricoperto molti importanti incarichi un po' in tutte le marche ed oltre. È stato commissario straordinario dell'AST di Ascoli nel 2008, direttore aziendale ad Ancona, direttore generale ad Alessandria, direttore di distretto a Fabriano, direttore generale a Perugia e commissario straordinario a Crotone e a Perugia e dal 30 gennaio scorso ha ricoperto lo stesso incarico a Pesaro. Le reazioni alla nomina risultano positive, dato che da tempo si attendeva una leadership stabile alla guida dell'azienda sanitaria di Fermo. Salutiamo e ci congratuliamo con il dottor Gentili per l'importante incarico che ha ricevuto ieri dalla giunta. Lo aspettiamo quindi a Fermo per essere subito operativi e confrontarci con lui. Secondo Giuseppe Donati della funzione pubblica CISLMARC, però, è necessario mettersi subito al lavoro per affrontare le criticità più urgenti della sanità fermana. L'augurio e l'ospicio è che non ci siano tempi morti, che possiamo immediatamente metterci al lavoro perché i problemi all'asta di Fermo sono tanti, in primis il problema del personale. Siamo in grave carenza, dobbiamo recuperare un gap storico con altri territori delle Marche e sarebbe importante subito prendere decisioni in tal senso perché poi la carenza di personale ha risvolti negativi anche sulle liste d'attesa, sulle agende chiuse, bloccate, che è uno scandalo per quanto riguarda la sanità pubblica. Dobbiamo garantire l'accesso alle cure a tutti, anche a chi non può permettersi il privato. Il fatto che le agende siano chiuse o che i cittadini fermani debbano aspettare mesi e mesi per poter fare una prestazione è legato anche al fatto della carenza di personale e di professionisti. Su questo quindi dobbiamo immediatamente aprire un tavolo di confronto e trovare le giuste soluzioni. Il primo incontro con il neodirettore Gentili è programmato per il prossimo 9 giugno per iniziare a confrontarsi e a lavorare insieme nel rispetto dei ruoli.